In questi ultimi tempi le aule della Cassazione non fanno che battere sullo stesso chiodo. Il datore di lavoro che stressa il dipendente con turni massacranti, obbligandolo a lavorare oltre il dovuto al fine magari di raggiungere obiettivi aziendali, deve sempre risarcirlo. E questo risarcimento va dato anche se il dipendente non ha sofferto alcun danno alla salute. Gli basta il semplice fatto che il capo non lo abbia saputo tutelare da un clima magari stressogeno. Pensate che sono state messe solo nei primi due mesi del 2024 ben sei sentenze che affermano questo principio. Ora, se vi interessa questo argomento ve ne parlerò in questo video, vi spiegherò come farvi risarcire dal vostro capo se vi ha tenuto qualche minuto al lavoro in più del dovuto. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella e sigla! Come sapete, per legge nessuno può essere costretto a lavorare più di 40 ore a settimana. Ci sono poi gli straordinari, ma questi non possono superare 8 ore per settimana. Dunque, in totale, 48 ore è il limite oltre il quale il lavoro non è consentito e diventa automaticamente illecito. I contratti collettivi possono prevedere un orario più ridotto, ma non certo superiore. Quante volte, tuttavia, il dipendente viene costretto a rimanere sul luogo di lavoro oltre il proprio turno? Quante volte il vostro capo vi trattiene per una riunione, per mettere in ordine il negozio, oppure abbiamo un briefing dell'ultimo minuto, non puoi mancare! Quante volte il vostro superiore vi invia un'email in ferie o magari un messaggio whatsapp nel weekend chiedendovi controlla il file sul computer, per cortesia. Insomma, ragazzi, tutti più o meno abbiamo lavorato ben più di quanto previsto dalla legge. Solo i più fortunati, peraltro, ottengono il riconoscimento dello straordinario in busta paga, peraltro in misura non superiore ad otto ore, perché diversamente sarebbe una zappata sul piede, sarebbe una tacita ammissione di superamento dei limiti legali. Detto ciò, secondo la Cassazione, per ottenere il risarcimento da stress lavorativo basta la prova dello sforamento degli orari, una prova che può essere data anche in qualsiasi modo, ad esempio con chat presenti sul telefonino, senza ulteriori documenti medici che certifichino il danno alla salute. Si tratta chiaramente di una novità importante, perché costituisce una deroga al principio generale dell'onere della prova. Onere, che di regola, spetta a chi fa valere un giudizio, ossia nel nostro caso al lavoratore dipendente, lui che deve dimostrare la lesione del diritto. Invece, secondo la Cassazione, in questo caso c'è una deroga a questo principio. Deroga che si giustifica perché il capo che ti fa lavorare più del dovuto sta violando nello stesso tempo due importantissime norme. Da un lato l'articolo 36 della Costituzione, che come tutti sapete garantisce a ogni cittadino il sacrosanto diritto al riposo, e dall'altro lato l'articolo 2087 del Codice Civile, norma quadro sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che impone al datore di tutelare la salute psicofisica del dipendente, far sì che quest'ultimo sia esonerato dal dover dimostrare un effettivo e concreto pregiudizio per richiedere l'indennizzo a causa dei turni massacranti. Ebbene, la Cassazione è stata molto chiara. La prestazione lavorativa eccessiva ossia che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che si protrae per diversi tempi, cagiona al lavoratore un danno da usura psicofisica. L'esistenza di questo danno si può presumere e non necessita di essere dimostrata. E non solo, il dipendente non deve neanche provare di essere vittima di mobbing per ottenere il risarcimento, perché il fatto del clima stressogeno è già di per sé un illecito che contiene la prova del danno. C'è una tipica esclamazione che fa a chi sente queste informazioni. Bravo, 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 agisci contro il tuo capo così il giorno dopo ti licenzia. Ma io vi direi, ma magari vi licenziasse! Così vi fa ricchi, perché il licenziamento sarebbe considerato ritorsivo e come tale sarebbe nullo e la nullità determina il pagamento degli arretrati, il risarcimento e la reintegra sul posto di lavoro. Vediamo ora al calcolo del risarcimento che vi spetta. Dobbiamo distinguere due diverse voci. C'è il danno biologico che è conseguente a eventuali lesioni psicofisiche, ad esempio un esaurimento nervoso o una sindrome depressiva. Questo però deve essere dimostrato con duqualitazione medica. E poi c'è il danno morale, che viene liquidato dal giudice in via equitativa, ossia secondo quanto gli appare giusto e grave nel caso concreto e senza bisogno di prove. Pertanto in queste ipotesi, per assolvere il proprio onere probatorio e ottenere il risarcimento, il lavoratore deve dimostrare soltanto il numero delle ore straordinarie svolte oltre i limiti e il periodo di riferimento. E sapete perché? Perché questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.